L'importanza della cancellazione dell'ipoteca. Quando si parla di mutui immobiliari, uno degli aspetti più significativi, ma spesso trascurato, è la cancellazione dell'ipoteca. Comprendere questo processo è fondamentale per chiunque abbia in corso un finanziamento ipotecario o stia pianificando di accenderne uno. L'ipoteca è una garanzia reale che lega un immobile a un debito, il quale, se non onorato, può portare a conseguenze severe come la perdita della proprietà in seguito a pignoramento. In questo articolo, esploreremo non solo le implicazioni legali e finanziarie legate all'estinzione del mutuo e alla cancellazione dell'ipoteca, ma anche le procedure che consentono di liberare l'immobile da questo vincolo, una volta che il debito è stato completamente saldato. È una fase che molti mutuatari attendono con ansia, il momento in cui possono finalmente dichiarare la loro proprietà libera da gravami. Durata legale e estinzione automatica. Per legge, l'ipoteca ha una durata di 20 anni dalla sua iscrizione, che di solito avviene poco dopo la firma del contratto di mutuo. Alla scadenza di questo termine, si assiste a un fenomeno di estinzione automatica dell'ipoteca, che avviene senza incorrere in alcun costo. Questo significa che, passati i 20 anni, non vi sarà più bisogno di intraprendere azioni legali o burocratiche per liberare l'immobile dall'ipoteca. Cancellazione attiva dell'ipoteca. Tuttavia, nei casi in cui il debito viene saldato prima dei 20 anni, come spesso accade con mutui a termine più breve, è possibile avviare il processo di cancellazione dell'ipoteca in qualsiasi momento. Questa operazione richiede l'intervento di un notaio che, a seguito della firma di un apposito atto di assenso alla cancellazione da parte del creditore, può procedere con la rimozione formale dell'ipoteca dal registro immobiliare. La procedura di cancellazione automatica. Negli ultimi anni, la legislazione italiana ha introdotto la possibilità di una cancellazione automatica dell'ipoteca, a seguito del regolare pagamento del debito. Questa opzione è prevista da specifiche disposizioni di legge, articolo 13, commi da 8 sexis a 8 quaterdeces, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 nota come, bersani, e si applica solo in determinate condizioni, che saranno esaminate più avanti. Obiettivi dell'articolo. In questo articolo, ci proponiamo di guidare il lettore attraverso i vari scenari e le procedure legali che possono presentarsi nell'ambito della cancellazione dell'ipoteca, offrendo una panoramica chiara e completa. Il nostro scopo è fornire strumenti concreti e informazioni affidabili per navigare con sicurezza in questa fase cruciale del percorso che ogni mutuatario affronta, assicurando che ogni passo sia compiuto con la giusta consapevolezza e attenzione. Proseguiremo con una disamina dettagliata delle procedure legali e delle opzioni a disposizione dei mutuatari, con l'obiettivo di offrire una bussola affidabile in questo percorso, spesso intricato, verso la libertà finanziaria e immobiliare. La natura e la durata dell'ipoteca. Cosa è l'ipoteca? L'ipoteca è un diritto reale di garanzia che si iscrive su un immobile a favore del creditore, come garanzia del pagamento di un debito, solitamente rappresentato da un mutuo. Questo diritto consente al creditore di rivendicare la proprietà o di esigere la vendita forzata dell'immobile per riscuotere il credito, qualora il debitore non adempia le proprie obbligazioni. La scadenza ventennale. Per legge, l'ipoteca è soggetta a una durata massima di vent'anni dalla data della sua iscrizione nel registro immobiliare. Questo significa che, decorso questo periodo, l'ipoteca si estingue automaticamente, senza necessità di compiere alcuna azione, né sostenere spese. Estinzione automatica dell'ipoteca. L'estinzione automatica rappresenta un meccanismo di tutela per il debitore, assicurando che, al termine di vent'anni, l'immobile si liberi dall'onere dell'ipoteca senza bisogno di interventi ulteriori. È un aspetto che riflette il principio di diritto secondo cui la garanzia su un bene non può essere perpetua. La cancellazione attiva dell'ipoteca. Quando intervenire, nel caso in cui il mutuo venga estinto prima del termine dei vent'anni, è possibile e spesso consigliabile procedere con la cancellazione attiva dell'ipoteca. Questo passaggio è fondamentale per liberare l'immobile da eventuali vincoli e poterlo vendere o ipotecare nuovamente senza impedimenti. Il ruolo del notaio. La cancellazione dell'ipoteca richiede l'intervento di un notaio, che redige e autentica un atto di cancellazione a seguito dell'assenso del creditore. Questa procedura garantisce la completa rimozione dell'ipoteca dal registro immobiliare, restituendo al proprietario la piena disponibilità dell'immobile. Casi di cancellazione automatica. Come menzionato in precedenza, esiste anche una procedura di cancellazione automatica dell'ipoteca, meno onerosa e concepita per semplificare il processo. Tuttavia, è importante sottolineare che questa procedura è applicabile solo in casi specifici, delineati dalla normativa vigente. Punti chiave. Durata. L'ipoteca ha una durata legale di 20 anni, dopo i quali si estingue automaticamente. Cancellazione attiva. È possibile cancellare l'ipoteca prima della scadenza ventennale attraverso un atto notarile. Cancellazione automatica. La legge prevede la cancellazione automatica dell'ipoteca in seguito al pagamento del debito, ma solo in determinate condizioni. La comprensione di questi aspetti è cruciale per ogni mutuatario e proprietario di immobile. Proseguiremo analizzando in dettaglio il processo di estinzione del mutuo e le implicazioni della cancellazione dell'ipoteca, fornendo un'indispensabile guida pratica su come navigare queste procedure. Il processo di estinzione del mutuo e cancellazione dell'ipoteca. L'estinzione del mutuo. L'estinzione del mutuo avviene quando il debitore ha soddisfatto completamente l'obbligo di rimborso nei confronti del creditore. Questo può verificarsi alla scadenza naturale del piano di ammortamento o anticipatamente, qualora il debitore decida di rimborsare il capitale residuo in un'unica soluzione. La cancellazione dell'ipoteca. Passi pratici. Una volta estinto il mutuo, la cancellazione dell'ipoteca non è automatica, eccetto nei casi previsti dalla legge. È necessario procedere con i seguenti passi. Richiesta dell'atto di cancellazione. Il debitore deve richiedere al creditore, solitamente la banca, un atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca. Intervento notarile. Con l'atto di assenso in mano, il debitore si rivolge a un notaio per la redazione dell'atto di cancellazione dell'ipoteca. Registrazione all'Agenzia del Territorio. L'atto notarile di cancellazione deve poi essere registrato presso l'Agenzia del Territorio per la sua efficacia giuridica e la definitiva rimozione dell'ipoteca dal registro immobiliare. Cancellazione automatica. Un'opzione vantaggiosa? La cancellazione automatica dell'ipoteca, introdotta per facilitare e ridurre i costi del processo di cancellazione, presenta vantaggi significativi, ma anche limitazioni. Costi. Le spese per la cancellazione automatica sono a carico della banca, rappresentando un risparmio per il debitore. Condizioni. Questa procedura è limitata a mutui ipotecari specifici e non è applicabile a tutte le tipologie di ipoteca. Tempistiche. La cancellazione automatica non è immediata. Ci sono dei tempi tecnici da rispettare, che possono influenzare la pianificazione di altre operazioni sull'immobile. Considerazioni pratiche. Procedura ordinaria. La procedura ordinaria con intervento notarile rimane la scelta preferibile per una cancellazione garantita e tempestiva. Procedura automatica. La procedura automatica può essere più economica, ma è importante valutare caso per caso in base alle specifiche esigenze e ai tempi previsti. Conclusioni della sezione. In questa sezione abbiamo delineato il percorso da seguire per la cancellazione dell'ipoteca, evidenziando i passi necessari e le opzioni disponibili. L'attenzione del mutuatario deve essere focalizzata su due aspetti chiave. Le procedure da seguire e la scelta della modalità di cancellazione più adatta alle proprie esigenze. Nella prossima sezione, approfondiremo i requisiti legali per la cancellazione automatica dell'ipoteca, per fornire una comprensione ancora più dettagliata del processo. Requisiti legali per la cancellazione automatica dell'ipoteca. Ambito di applicazione della cancellazione automatica. La cancellazione automatica dell'ipoteca è un meccanismo previsto dalla normativa italiana che semplifica il processo di liberazione di un immobile da un vincolo ipotecario. Tuttavia, per poter beneficiare di questa procedura sono necessari specifici requisiti. Natura dell'ipoteca. L'ipoteca deve essere stata iscritta a garanzia di un mutuo. Sono escluse altre forme di ipoteca, come quelle legali, giudiziali o volontarie non legate a mutui. Soggetto creditore. L'ipoteca deve essere iscritta a favore di banche, società finanziarie o enti previdenziali che hanno concesso il mutuo. Tipologia di cancellazione. La procedura si applica solo alla cancellazione totale dell'ipoteca, non a riduzioni parziali o altre modifiche. Procedura di cancellazione automatica. Per avvalersi della cancellazione automatica dell'ipoteca, i passaggi legalmente previsti sono. Pagamento completo del debito. Il mutuatario deve avere saldato integralmente il debito garantito dall'ipoteca. Comunicazione alla banca. Il mutuatario informa la banca dell'avvenuto pagamento, che a sua volta deve comunicare all'Agenzia del territorio la cessazione dell'obbligazione. Attesa dei tempi tecnici, la cancellazione diventa efficace dopo il decorso di 30 giorni dalla comunicazione, salvo motivazioni valide per il mantenimento dell'ipoteca da parte della banca. Limitazioni e considerazioni. Limitazioni di applicabilità. Non tutte le ipoteche possono essere cancellate automaticamente. La legge stabilisce criteri precisi che devono essere soddisfatti. Tempistiche e tutela. Sebbene la cancellazione automatica comporti un risparmio di costi, non offre la stessa immediatezza e certezza della cancellazione notarile. I tempi tecnici e la possibile opposizione da parte della banca possono rappresentare un'incertezza per il debitore. Conclusioni della sezione. La cancellazione automatica dell'ipoteca è una procedura che, sebbene offra vantaggi in termini di costi e semplificazione, deve essere considerata con attenzione. È fondamentale per il debitore conoscere i requisiti e le possibili implicazioni di questa opzione per poter prendere una decisione informata. Con un'analisi approfondita e consapevole delle proprie circostanze, il mutuatario può scegliere la strada che meglio si adatta alle sue esigenze, sia dal punto di vista economico che temporale. Cancellazione dell'ipoteca, prassi e considerazioni pratiche. La scelta tra procedura notarile e cancellazione automatica. La decisione su quale percorso seguire per la cancellazione dell'ipoteca richiede una valutazione attenta di diversi fattori. Mentre la procedura notarile comporta dei costi a carico del mutuatario, offre la certezza e l'immediatezza della cancellazione. D'altro canto, la cancellazione automatica, pur essendo meno onerosa, può introdurre delle incertezze e richiedere tempi più lunghi. Procedura notarile. Massima garanzia. Sicurezza legale. L'atto notarile di cancellazione fornisce una conferma ufficiale e immediata della rimozione dell'ipoteca dal registro immobiliare. Immediata efficacia. La procedura notarile elimina l'ipoteca non appena l'atto viene registrato, senza alcun periodo di attesa aggiuntivo. Cancellazione automatica. Risparmio di spese. Costi a carico della banca. In caso di cancellazione automatica, i costi associati al processo sono generalmente sostenuti dalla banca. Tempo di attesa. La cancellazione automatica richiede il decorso di almeno 30 giorni dall'estinzione del debito per divenire effettiva. Implicazioni per l'acquirente e il mutuatario. Vendita dell'immobile. La presenza di un'ipoteca non cancellata può influenzare la vendita di un immobile, pertanto è spesso consigliabile completare la cancellazione prima del rogito. Stipula di un nuovo mutuo. L'ipoteca esistente può complicare la stipula di un nuovo mutuo sull'immobile. Una cancellazione notarile può facilitare questo processo. Considerazioni strategiche. Analisi del contesto. È essenziale considerare la situazione specifica, inclusa la tempistica delle operazioni immobiliari pianificate. Consulenza professionale. La consulenza di un notaio o di un consulente finanziario può essere cruciale per determinare il miglior percorso di azione. Conclusioni della sezione. La cancellazione dell'ipoteca è un passaggio che richiede riflessione e può avere impatti significativi sulle operazioni immobiliari future. I mutuatari devono pesare i pro e i contro delle diverse opzioni, tenendo conto delle proprie esigenze finanziarie e delle tempistiche. In alcuni casi, la procedura notarile può rappresentare un investimento per la tranquillità futura, mentre in altri, la cancellazione automatica può essere una soluzione efficace e conveniente. Conclusioni. Sintesi delle opzioni di cancellazione dell'ipoteca. Abbiamo esplorato i meccanismi attraverso i quali un mutuatario può procedere alla cancellazione dell'ipoteca, delineando due percorsi principali, la procedura notarile e la cancellazione automatica. Ogni procedura ha le proprie caratteristiche, costi e tempi, e la scelta tra queste opzioni dipende dalle circostanze individuali e dagli obiettivi a lungo termine del mutuatario. Considerazioni finali per il mutuatario. Valutazione attenta. Prima di decidere quale percorso di cancellazione perseguire, è fondamentale valutare attentamente la propria situazione finanziaria, i tempi e le eventuali operazioni immobiliari future. Consulenza professionale. L'assistenza di professionisti del settore, come notai o consulenti finanziari, può fornire una guida preziosa nel processo di cancellazione dell'ipoteca. Azioni consigliate. Verifica dei requisiti. Assicurarsi che tutti i requisiti per la cancellazione automatica siano soddisfatti prima di intraprendere tale percorso. Pianificazione dei tempi. Considerare i tempi tecnici della procedura scelta, specialmente in relazione alla vendita dell'immobile o alla stipula di un nuovo mutuo. Il percorso verso la libertà immobiliare. La cancellazione dell'ipoteca rappresenta un momento cruciale nel percorso verso la piena proprietà del proprio immobile. È il punto finale di un impegno finanziario e l'inizio di una nuova fase di libertà immobiliare. Invito all'azione. Se vi trovate in prossimità di questo passaggio o pianificate di intraprendere un mutuo, vi incoraggiamo a raccogliere tutte le informazioni necessarie e a valutare le vostre opzioni con cura. La strada verso la cancellazione dell'ipoteca può essere meno ardua di quanto sembri, purché si proceda con informazioni corrette e supporto qualificato. Con questo articolo, speriamo di aver fornito un quadro chiaro e dettagliato delle procedure di cancellazione dell'ipoteca, strumenti utili per affrontare questo processo con consapevolezza e sicurezza. Ricordate, il percorso verso la libertà immobiliare è alla vostra portata.